C'è molto da dire, mancano 17 partite e per essere promossi direttamente bisogna vincerne la maggior parte se non tutte. Quella di oggi è la prima, è un match critico contro gli ultimi in classifica. Il Sunderland è senza allenatore, quindi oggi Mike Dotz è provvisoriamente al comando. Lancio di Winchester su Griffiths che entra in area di vigore sulla sinistra, gol al 22esimo minuto per il Doncaster Rovers. Si avvicina, oh, 2 a 0, gol di Rovers! Incredibile! Ma ti dico la verità, Nick, non sono sorpreso. Tante domande e poche risposte al momento.